Allora, noi dobbiamo parlare di Aspettando Codot, ora che si può dire di Aspettando Codot, più di tutto quello che è stato detto. Io punterai sull'allegro. Facciamo capire che lo spettacolo fa... Per lo meno noi ritiamo, insomma. Ok. Come c'è? Speggiamento vincente, eh? Ah, Aspettando Codot, il testo più importante, è venuto al Novecento, questa volta ha fatto in una chiave, come dire, divertente. Circenze, strana. Wow! E là! Trombo. È molto divertente. È molto più delle altre. Ecco, però meno di quello che potrebbe essere. La mia domanda è... Stavo provando. Se fosse stato scritto di questi tempi, Codot sarebbe arrivato subito, una telefonata, un telefonino. All'epoca non c'erano ai tempi di Baggett. Questa cosa la possiamo levare? Sì, no. Aspettando Codot, aspettando Codot, stiamo qui a Teatro Ghione, venite, non perventiremo. Posso fare un appello a Baggett?